Spuntano delle foto di Schumacher scattate di nascosto. Il fluire inarrestabile del tempo si scontra con la resilienza della leggenda di Michael Schumacher. Un campione di fama mondiale ancorato nei cuori di milioni di appassionati e di coloro che, con una sensibilità profonda, hanno accompagnato il suo tragico destino nel corso degli anni. Risaliamo indietro al 29 dicembre 2013. Una data destinata a incidere in modo indelebile nella vita di uno dei più illustri piloti nella storia della Formula 1, amato con passione dai tifosi della Ferrari per le sue innumerevoli vittorie. In quella giornata fatidica, Schumacher si stava godendo una sessione di sci sulle nevi di Maribel insieme al figlio Mick, all'epoca 14enne e ora talentuoso pilota per l'Alfa Romeo, e a un gruppo di amici, su piste che conosceva a perfezione e in condizioni meteorologiche apparentemente ottimali. Tuttavia, un tragico incidente sulle piste ben conosciute della Shamwa e della Biche ha stravolto completamente il corso degli eventi. Nonostante le condizioni critiche iniziali, Schumacher ha affrontato con coraggio un arresto cardiaco e un'emorragia cerebrale, grazie al pronto intervento dei soccorsi e al trasporto in elisocorso agli ospedali di Mutier e Grenoble. A distanza di dieci anni, emergono nuove foto clandestine provenienti dalla Germania, scuotendo nuovamente le emozioni di chi segue con attenzione e preoccupazione la vicenda del campione. Recentemente, la rivista tedesca di Actuelle ha sollevato polemiche presentando un'intervista simulata attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, contribuendo ulteriormente al dibattito sulle notizie non verificate. La famiglia di Schumacher ha dovuto affrontare anche situazioni in cui i paparazzi hanno tentato di sfruttare l'immagine del campione, ma grazie alla loro pronta reazione, sono riusciti a preservare la privacy del pilota. Schumacher, attualmente al sicuro e avvolto dall'affetto familiare, continua a incarnare un'icona sportiva, e nonostante le incertezze sulla sua salute, i dettagli rimangono conosciuti solo a pochi intimi. La sua assenza crea un vuoto tangibile nel mondo dello sport, mentre il pubblico persiste nella speranza di assistere a un possibile recupero del leggendario pilota.